Tu dunque sarai disposto a preparare dei miei piccoli elaborati di preparazione in vista del 14 per la conferenza? Beh sì, io sarò uno dei tanti insieme ai miei compagni di corso, lavoreremo insieme per avere un risultato finale di gruppo, penso. Penso sia questa l'idea verso cui puntiamo. Grazie.